Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo velocissimo video dove molto probabilmente mi vergognerò dopo questo video però ieri live mi hanno consigliato questo gioco e ho deciso di sfidarvi e soprattutto provate a battermi ma non sarò da solo oggi ragazzi sono una persona speciale che è venuta qua ha fatto un lungo viaggio per venire a trovare e credo che tanti di voi la conosceranno magari altri no se non siete un po' vicini ma tanti la conosceranno Van damma una bottiglia d'acqua ma ok oggi è incazzato ed eccoci ragazzi in un gioco di My Little Pony un gioco sul web sul browser vi metto il link in descrizione e ragazzi sembra apparenza prima di insultare prima di mettere dislike prima di commentare in modo negativo prima di fare incazzare quell'uomo lì che avete visto prima cercate e provateci provate a scaricare non c'è da scaricare cliccate sul browser provate questo gioco e poi mi direte ok io ieri l'ho provato e mo mi sono imbessalito devo fare il record prova a battermi prova a battermi ma prima facciamo giocare van van vuoi giocare dai gioca dai una solo una e fanne una e me la prova è bello vai prova una dai solo una no ma don come si incazza e finalmente ragazzi proviamo il gioco solo clic sinistro il mouse replay iniziamo allora dovete battetela allora uno due che cazzo fa tutto sto casino per scrivere arrivo arrivo a scritto dai gioca 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 4 5 6 7 8 13 15 15 17 17 però quasi quasi ci sono arrivato ragazzi provo da battermi il record è 22 se lo erro oh van fai con me così così fai con me così great job gris gris che è sto gris gris si di mangiare va fan gul va andà va fan gul va ok ragazzi quello è pazzo io spero il video vi sia piaciuto lo faccio finire qui prima che gli venga qualche altro iptus ragazzi il link è in descrizione non so che sta facendo c'è a mano qualcosa il link è in descrizione mi raccomando fatemi sapere nei commenti mettetevi in screen o fate video quello che volete se mi avete battuto al mio record ragazzi io andrei perché quello vuole giocare a counter strike ma non ha capito che io gioco a counter strike in live mi diverto un gioco quello lo fa seriamente metti laggiù metti laggiù no che hai combinato eccala a Grazie a tutti.